questa è stata una delle scene con il maggiore impatto visivo che abbiamo visto finora in the last of us ma come è stata realizzata questa scena andiamo a scoprirlo salve a tutti ragazzi e bentornati su chuck e azioni io sono valerio perroni ed oggi volevo raccontarvi come è stata realizzata il finale della quinta puntata di the last of us andata nonda su sky atlantic qualche settimana fa siamo ormai alle soglie del settimo episodio quindi siamo ben inoltrati nella stagione per realizzare questa scena la produzione ha speso ben sei ore fino a arrivare alla notte inoltrata durante la quale si è poi girata la scena senza uso della computer grafica ma con un grande uso degli effetti pratici con trucco e costumi molto pesanti per realizzare questa scena la produzione ha assunto più di 60 stuntman truccati ad hoc sia da infetti normali sia da clicker il costume che vedete è stato realizzato su misura per l'attore e stuntman britannico adam basil attore che ha già lavorato in una serie al calibro del trono dei spade anche per la sua prestanza fisica tant'è vero che per portare un costume del genere bisogna avere anche forza fisica visto che il costume pesa più di 50 kg infatti il costume indossato da basil è stato modellato direttamente sul corpo dell'attore in quanto la produzione aveva già un modello del fisico di basil quindi si è potuta regolare di conseguenza amalgamando e plasmando il costume sul suo fisico tra pommapiuma e lattice insomma un costume che pesa 50 kg pieno di scaglie ricoperto da una sostanza gelatinosa per far sembrare ricoperto dal fango quindi veramente veramente un gran lavoro certo non un costume proprio pratico per girare una scena al genere Come abbiamo detto due sono stati gli infetti che hanno rubato la scena in quel momento il bloater come abbiamo già visto e la l'infetta bambina la clicker che attacca Ellie mentre si nasconde dentro la macchina beh questa è interpretata da una ginnasta professionista di nove anni infatti Manilinsky ha girato completamente senza l'aiuto di nessun effetto CGI o altro tutte le scene realizzate che vediamo nel film quindi i salti le contorsioni che le vediamo fare dentro la macchina per attaccare Ellie quindi veramente un gran lavoro per un'attrice di soltanto nove anni che ha dimostrato di terrorizzare veramente tutti noi spettatori perché di quell'episodio ricordo assolutamente la clicker bambina che attacca Ellie quindi un gran lavoro il lavoro è stato fatto soprattutto da mesi nel dracman i due co sceneggiatori che stanno portando all'apici del successo della stop us in quanto durante il backstage sia dracman che masin hanno amato le controfigure e gli stuntman che hanno impersonato i clicker in quanto loro riuscivano veramente a demettere quel suono fastidiosissimo e caratteristico dei clicker appunto e ricevevano da loro istruzioni su come muoversi per rendere al meglio gli infetti che vediamo da questi dettagli e da molti altri si capisce l'impegno e la voglia di HBO di puntare già da tempo su The Last of Us la prima stagione è quasi terminata quando siamo al settimo episodio ne mancano due e la seconda è già stata annunciata quindi non ci resta che iniziare ad aspettare e amare continuare ad amare questa serie che veramente ci sta prendendo corpo ed anima io vi ringrazio per averci seguito fin qui vi ricordo di cliccare in iscrizione qui sotto dove ci sono i nostri link ai vari nostri canali social tra cui facebook youtube ed instagram ancora una volta grazie a tutti e buona giornata grazie a tutti